Allora questo è uno dei miei piatti preferiti in assoluto, che mi ricorda l'estate, in memoria della nonna Assunta, della nonna Bodena, dell'assuntina Pucci di Panzano, olio, sale e pepe, basilico, pomodoro, pane bianco, tanto olio buono toscano e questo è il famoso pane, come si chiama noi, stropicciato coi pomodoro, pane stropicciato coi pomodoro, è una cosa veramente che mi ricorda l'estate e mi ricorda tutte le cose belle che mi hanno insegnato la nonna Assunta, la nonna Bodena e l'assuntina Pucci, le cose sane di campagna nostre, le cose vere, buono, buono, buono. Grazie a tutti.